sognare si può buongiorno buongiorno a tutti quanti buongiorno a tutti ben trovato al nostro ermanno cottini terzo appuntamento e abbiamo già avuto modo di conoscerci dopo una piccola pausa è tornato per fare un pochino il punto ma per tornare su quello che è il suo romanzo di punta ha un titolone interessante importante per certi versi anche un po inquietante misterioso misterioso la reliquia rinnegata ecose edizioni ermanno cottini la reliquia rinnegata ne abbiamo già parlato nasce tutto questo romanzo nasce in realtà da una storia reale vera che tu hai incontrato in cui tu ti sei imbattuto in giro per vacanze esatto casualmente allora diciamo intanto vogliamo anche ricordare che ermanno cottini ha scritto anche un libro di racconti molto interessante perché ermanno cottini è anche un medico esatto e diciamo che novellando in venti racconti sempre di ecose edizioni si sofferma un po di più su argomenti decisamente più leggeri perché non è un romanzo sono racconti per iniziare ma il soggetto di questi racconti qual è sono episodi spesso tratti dalla professione tratti da 40 anni di attività professionale come medico di famiglia e sono alcuni episodi gustosi delicati toccanti per certi versi che hanno riguardato alcuni pazienti pazienti particolarmente fragili pazienti verso i quali si deve avere una maggiore attenzione certo e sono pazienti che in realtà sembra che ti assorbano tutto ma in fondo in fondo ti donano anche molto e da questi racconti si evince questo secondo aspetto quello che l'umanità che viene fuori dal rapporto professionale medico paziente che è un aspetto molto importante e che devo dire ne parlavo anche con un altro scrittore professore che ho incontrato pochi giorni addietro e un pochino si è perso no questo questo rapporto che tu anche mi racconti così importante intimo anche di protezione oltre che di cura nei confronti del paziente no esatto perché è un rapporto particolare che solo il medico di famiglia può avere perché qualunque altro medico pur bravo a volte vede il paziente un'unica volta in consulenza dopo di che non ne sa nulla di quello che accadrà in seguito mentre il medico di famiglia si crea una storia in divenire del paziente quindi è una sorta di biografia sanitaria ma non solo è una biografia sotto tutti i punti di vista una biografia familiare una biografia intima una biografia di sensibilità lavorativa di sociale persino di rapporti umani di relazioni umane e questa è la cosa più bella della professione del medico di famiglia esatto e diciamo che all'interno di questo libro in qualche modo si può vivere una parte esatto delle esperienze che tu hai vissuto una condivisione di alcune esperienze che magari ti sono rimaste più impresse e questo è sicuramente interessante ora torniamo però al nostro romanzo che mi interessa tra l'altro ho finito di leggere proprio ieri stanotte diciamo così è veramente molto molto bello ve lo consiglio perché è intrigante misterioso ci torniamo subito intanto prima di tutto io voglio ringraziare tutti gli ascoltatori di sognare si può quindi vi ringrazio perché siete tanti e ci seguite e grazie di cuore un saluto un ringraziamento a tutti i gruppi facebook che ci sostengono e condividono le nostre dirette quindi un saluto ringraziamento ad andrea fiore al suo gruppo meraviglioso che condivide sempre le nostre dirette un saluto e ringraziamento all'angolo del confronto quindi a gabriella rita e tutti coloro che ne fanno parte gente per bene torino vip grazie di cuore ma un saluto e ringraziamento particolare naturalmente va a tutti gli ascoltatori di radio moncalieri e radio stella piemonte e naturalmente a gianni ricci che ne è il direttore e a tutto lo staff che ci permette di andare in onda anche su sulle sue stazioni fatto questo io direi che possiamo tornare a raccontare un pochino solo un pochino chiaramente perché naturalmente cercheremo di non svelare troppo perché la bellezza di questo romanzo sta proprio nello scoprire un passo avanti all'altro tutti questi accadimenti davvero particolari che da un certo punto in poi della storia fino a un certo punto la storia abbiamo detto è accaduta e tutti sei incappato sei incappato in questo paesino nelle Marche nel Lazio è già nel Lazio quindi questo paesino nel Lazio ho sbagliato a Calcata esattamente mi sono confusa con un altro pezzo di provincia di Biterbo sì 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 assolutamente sì hai ragione a poche decine di chilometri da Roma questo è un bellissimo paese Calcata Calcata vecchia precisamente perché c'è Calcata nuova che è la il comune che è stato costruito subito a valle essendo stata giudicata pericolosa la permanenza in Calcata vecchia dal punto di vista sismico giudicato a rischio attualmente difatti la maggior parte degli abitanti vive a Calcata nuova Calcata vecchia poi è stata riconcessa ad alcune realtà per lo più turistiche commerciali artistiche che la popolano e le danno una vita dal punto di vista turistico significativo che è un po' ricalca quello che era stata la vecchia notorietà di Calcata grazie alla sua reliquia questa reliquia che è stata generata celebrata per secoli fino al 1983 quando improvvisamente la reliquia viene rubata ma è questo e questo è questo è reale documentato è reale voglio fare un saluto al volo alla dottoressa patrizia valpiani grazie per essere con noi sì caro saluto e quindi insomma questa è storia quindi ci sono documentazioni ci sono stati eventi eventi tra l'altro fino a quel momento che troverete nell'appendici ci sono due appendici alla fine del romanzo che fanno il punto dal punto di vista storico e bibliografico sulla vicenda però da quel punto da quel momento in poi si susseguono degli accadimenti in questo romanzo come mai questa reliquia è stata rubata e fin qui ci sta ci sta tutto perché un reliquiario prezioso un furto di opera d'arte così è stato liquidato tutto subito ma in realtà la cosa più inquietante è che viene posto il veto su sulle indagini e questa già è una notizia che in qualche modo ci incuriosisce ma perché non si possono fare le indagini tra l'altro ricordiamo per chi non ci avesse seguito nelle altre puntate che questa reliquia preziosissima non è una reliquia qualunque perché parliamo di qualcosa di umano di umano sì di una particella umano esatto mentre le reliquie spesso religiose spesso sono oggetti oggetti mascheggi chiodi non so spine della croce esatto in questo caso noi abbiamo che fare organica organica l'unica reliquia organica organica è imbarazzante è imbarazzantissima perché si tratta della reliquia del prepuzio di gesù cristo quindi è evidente che stiamo parlando di un argomento imbarazzante inquietante per certi versi perché ricordiamoci che nel 1983 più o meno e insomma venendo verso di noi verso il periodo attuale ma comunque in quel momento stava come in qualche modo si stava sviluppando una teoria abbastanza discutibile discussa no parliamo della clonazione quindi vabbè c'era la pecora dolly insomma ci sono stati vari esperimenti ciao lucia lucia simone sono un grande abbraccio a te e per cui insomma viene spontaneo anche pensare con un po di malizia come mai questo queste indagini non si possono fare forse la scomparsa della reliquia faceva comodo qualcuno e a chi se non al vaticano che è stato in prima persona a porre il veto che se ne parlasse e questo veto vale ancora tutt'oggi quindi persino il touring club italiano ha avuto una diffida sul fatto di poter citare la reliquia come una delle attrazioni di calcata sì e questa in realtà è questa ed è quello che ha fatto scaturire in me la curiosità e ha fatto accendere la lampadina della fantasia della narrazione e certo a questo punto diciamo ci sono chiaramente si susseguono tutta una serie di di eventi di scoperte durante la lettura ci tengo anche a sottolineare che il tuo modo di scrivere questo romanzo è piuttosto originale perché parliamo di un certo numero di capitoli 33 che in qualche modo sono chiaramente seguono un filo però ogni ogni capitolo si conclude si conclude praticamente sono episodi assistanti e questa è anche una particolarità piuttosto curiosa curiosa sì no e e poi parliamo di una certa numerologia che si ripete che è quella del numero 3 3 come la trinità la trinità la trinità sacra che in questo caso è una trinità orizzontale che è riprodotta nella copertina sì nella copertina del libro in effetti troverete un affresco un affresco che è qui in piemonte in più località del piemonte nella fattispecie questo è l'affresco che c'è in facciata all'ospizio della trinità di valgrana nell'omonima valle del cuneese poco distante da caraglio questo ospizio della trinità è una costruzione di metà 400 che dava ospitalità ai pellegrini lungo la via francigena e in facciata questo affresco è stato eseguito dai fratelli biazzaci che era una coppia di fratelli originari di busca sempre nella nel cuneese che vivevano si automantenevano facendo queste opere d'arte su commissione o da parte di parroci o da parte di privati su determinate costruzioni ce n'è un altro analogo a melle nella confratria di melle ce n'è un altro in cattive condizioni a venasca e poi ce ne sarà un terzo che troverete anche nella nella trama nel biellese tra l'altro effettivamente questo queste località questi luoghi compaiono compaiono tutti tutti all'interno del romanzo perché in ognuno di questi luoghi comunque avverrà un episodio qualche esatto un episodio quindi c'è una cura particolare dal mio punto di vista e tra l'altro studiato perché casca fagiolo di dei luoghi da parte tua perché questi personaggi che poi si susseguono devo dire dimentichiamo però forse di dire qualcosa che chi ha seguito la prima puntata lo ricorderà ma chi ci vede per ci ascolta per la prima volta è rimasto rimane un po perplesso ma cosa succede al dire dopo il furto dopo il furto io mi chiedo come mai il vaticano non vuole che se ne parli l'abbiamo accennato perché probabilmente si temeva un tentativo di clonazione in quanto la reliquia di cui stiamo parlando contiene del materiale cellulare quindi del dna potenzialmente clonabile e questo è l'ipotesi che io perseguo nella stesura del romanzo e a questo punto mi chiedo e se questa clonazione qualcuno la volesse fare realmente e l'avesse fatta cosa sarebbe successo e questa è la trama del romanzo cioè la clonazione avviene viene fatta secondo i crismi scientifici viene fatta negli stati uniti a baltimore alla john opting university secondo le modalità che troverete narrate e nasceranno ecco qui si torna al numero 3 3 cloni esattamente i 3 cloni che vedete nella fresco che rappresenta una clonazione in pectore quando io vedo questa raffigurazione dico ma questa mi casca a fagiolo c'è quello che cercavo cioè io cercavo un luogo in cui ambientare l'ultima parte del romanzo e mi viene fornito da questo ospizio della trinità di fatti l'ultima l'ultimo capitolo le ultime pagine del romanzo si svolgeranno all'interno dell'ospizio della trinità esatto è molto interessante tutto questo ci terrei a dire perché chiaramente non vogliamo svelare tutto però il discorso è che partendo da questo presupposto si sviluppano tutta una serie di episodi che tra l'altro si incrociano e si svolgono in parti veramente lontanissime del mondo fino a poi invece convertire vengono toccati tutti i continenti esatto scoprirete realtà lontanissime da noi andremo dalle filippine alla colombia al messico all'afghanistan alla somalia località che non hanno un collegamento tra loro se non per il fatto che sono luoghi in cui c'è sofferenza in cui c'è sfruttamento dei deboli e in cui la presenza di un clone di cristo può giocare un ruolo molto importante esatto e siccome parliamo di un giallo è evidente che in qualche modo noi diamo per scontato ma dovrete scoprire chiaramente che cose accade che si consumerà comunque comunque sì un omicidio e quindi tutto si concluderà in italia esatto e quindi noi diciamo la il fascino di questo giallo di questo racconto intrigato un po come dire un po in sospeso tra passato presente e futuro perché tra l'altro la parte un'altra delle particolarità di questo romanzo è che partendo dal passato appunto quindi dal 1500 dal sacco di roma passerà da quella che per noi da quello che per noi è il presente per arrivare in un futuro futuro in un futuro non lontano ma in un futuro che si compierà in 33 anni dall'inizio della clonazione avvenuta nel 2000 esatto si finirà nel 2033 e qui torniamo al fil rouge del numero 3 della numerologia esatto perché 33 saranno i capitoli 3 sono i cloni 3 sono le madri 3 sono le parti per cui c'è una prima parte una seconda parte un epilogo è tutto giocato sul 3 e gli episodi che toccheranno che vedranno protagonisti i tre cloni saranno tre per ogni clono ripetuto tre volte esatto questo numero 3 che torna spesso condiziona in realtà tutto lo svolgimento del romanzo tra l'altro viaggiare con te è estremamente interessante perché sembra realmente di essere nei luoghi che tu descrivi talmente sono i particolari che ci mostri che ci descrivi come mai come sei riuscito a fare questo perché tu sei andato letteralmente a studiarli a vederli a studiarli a vederli con google map con le visite virtuali cioè l'aeroporto ad esempio di baltimora è stato da me visitato virtualmente lo stesso l'ospedale della john opting university è visitato nel dettaglio ed è scritto dettagliatamente lo stesso episodio che si svolge nelle filippine c'è un viaggio attraverso alcune isole quindi anche lì sono stati valutati i percorsi gli attraversamenti dei tramite i traghetti i tempi necessari per compiere queste questi trasferimenti sono tutte cose non casuali e verificabili assolutamente sì un'altra particolarità sono è anche l'attenzione con cui tu hai studiato e quindi ci riproponi tutta una serie di pratiche che vengono realizzate tutti ci sono diciamo dei non vogliamo dire tantissimo ma comunque ci sono delle operazioni dei neanche delle degli spostamenti dei riti che vengono effettuati e tu hai studiato nei particolari anche tutto questo quindi insomma all'interno dei conventi degli spazi dei dei proprio tutto veramente realistico certo l'ambientazione conventuale è stata verificata da a me personalmente nella certosa di pisa con una visita dettagliata nelle cellette dei monaci cistercensi quindi quello che scoprirete sui dettagli di come era costituita la cella di come si poteva verificare la presenza o meno dell'occupante all'interno della cella sono tutti particolari non inventati ma sono reali esatto e questo ci permetterà come è accaduto a me stanotte di avere voglia di entrare di vedere di scoprire e ci sembrerà anche noi di aver messo l'occhio esatto proprio lì spioncino su quello particolare uno spioncino di pietra non lo spioncino dei nostri giorni certo perché nel romanzo troverete un accostamento tra moderno tra tecniche di clonazione ultramoderna genomica eccetera proiettato addirittura nel futuro con invece una metodologia criminogena e criminale che risale al medioevo e che quindi l'ambientazione potrebbe essere quella del nome della rosa ad esempio cioè esatto è estremamente intrigante la stessa arma del delitto non l'avete mai trovata è inimmaginabile è inimmaginabile tra l'altro sì è inimmaginabile veramente e questo è estremamente coinvolgente perché ti domandi mentre vai avanti nella lettura che cosa accadrà un attimo dopo quindi hai proprio voglia di esatto come dire di mangiare queste pagine queste parole per infatti il romanzo si articola così c'è una prima fase storica poi c'è tutta la fase della clonazione dell'avventura dei cloni per il mondo poi c'è una fase statica che lascerebbe un attimo il lettore sospeso in attesa di un qualcosa che non sa bene cosa sia invece poi nell'ultimo capitolo si scatena completamente la parte noir la parte crime esatto effettivamente dobbiamo proprio c'è un crescendo sì che ci porta a un certo punto veramente è un crescendo come una sinforia non a caso il primo personaggio si chiama Wolfgang non scelto a caso l'ho scelto per omaggiare Wolfgang Amedeus Mozart e quindi per dare all'anzichenecco che sarà il latore della reliquia dopo il sacco di Roma e la porterà a Calcata questo nome Wolfgang comincia a introdurre un elemento musicale un elemento sinfonico di un crescendo che si andrà vivendo sempre di più fino all'epilogo è vero, è verissimo è proprio un crescendo che coinvolge e che ci porta a voler scoprire assolutamente che cosa accadrà accadrà questo è estremamente interessante voglio fare un saluto alla nostra Cinzia Mazza grazie e buon pomeriggio a te ci siamo lasciati da poco e quindi ti ringrazio per essere così qui con noi a parlare e ascoltare il nostro Ermanno il nostro Ermanno Cottini che ci porta all'interno di un futuro abbastanza inquietante sì perché parliamo di tabù ecco cioè questo è un è un romanzo che insomma ci va anche tutto sommato un po' di coraggio per scriverlo ebbene sì è una sfida alla fine ma è una doppia sfida perché parliamo comunque di un tabù legato alla clonazione che anche soltanto per una questione etica crea chiaramente delle complicazioni ma se pensiamo che questa clonazione umana in qualche modo è legata o essere legata a qualcosa di divino è chiaro che diventa qualcosa di estremamente coraggioso coraggioso sì è moltiplicativo iperbolico assolutamente sì tra le altre cose visto che il nostro tempo come sempre vola vorrei ricordare che questo libro no la reliquia rinnegata ha una prefazione importante vorrei salutare Massimo Tallone dell'amico Massimo Tallone sì che ti ha certo ti ha regalato questa questa prefazione anche questa direi piuttosto importante si potrebbe anche leggere non è molto lunga purtroppo il nostro tempo vola però se ci sarà un'altra occasione sarà sicuramente il nostro interesse come prima cosa condividere almeno una parte di questa prefazione che dal mio punto di vista ha il suo veramente il suo grande valore di introduzione anche perché colloca nell'ambito della letteratura quest'opera la colloca la classifica la 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 una veste una veste nell'ambito della letteratura mondiale quindi la nobilità se così vogliamo dire assolutamente sì il nostro tempo è volato la nostra mezz'ora è veramente scivolata via ci sarebbero ancora tante cose da dire ci siamo un po' trattenuti chiaramente visto il tipo di romanzo per lasciarvi la curiosità di scoprire attraverso la lettura tutta l'emozione tutto il fascino di questi episodi per andare poi a scoprire che cosa accadrà nel finale dovete assolutamente leggere quindi dovrete lo potete trovare prenotandolo in qualunque libreria oppure lo potete trovare sul sito dell'editore Ecos Edizioni di Giaveno oppure in tutte le librerie online su Amazon su tutte le piattaforme su Fultrinelli su Fultrinelli su Fultrinelli eccetera ve lo porteranno a casa nel giro di due giorni quindi mi raccomando non perdete tempo non perdete tempo visto che le vacanze sono diciamo così è l'ideale per in arrivo magari sotto l'ombrellone perché no io vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio Ormanno grazie a tutti per l'ascolto profondamente per questo bellissimo libro questa bellissima occasione di lettura vorrei vi anticipo che probabilmente non finisce qui non finisce qui perché potrà essere una probabile trilogia ma per il momento rimanendo sul numero 3 esatto per il momento però rimanete qui leggiamo leggete leggiamo la reliquia rinnegata benissimo Ermanno Cottini ecco sedizioni il prezzo è 15 euro non perdete questa lettura grazie ancora grazie a tutti voi grazie agli ascoltatori grazie a tutti alla prossima alla prossima ecco Grazie a tutti